Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Kreeforgame, eccoci qui con il secondo episodio della serie Outlast 2 Allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati, cioè ovvero dopo che quel brutto ceffo ci ha atteso un agguato precisamente da questa finestra E vediamo di uscire da questo postaccio Ok, non mi ricordo bene dov'è che dovessimo andare Allora, 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 allora Diciamo che la strada più ovvia mi sembra questa E invece ovviamente non lo è Qui intanto abbiamo una pila da poter raccogliere E perché no? Bene ragazzi spero che il primo video vi sia piaciuto, io mi sono divertito un sacco anche a riguardarlo Perché tra l'altro dico delle grandissime fesserie E ho scoperto di non saper completamente leggere Altra cosa non da poco Comunque usciamo Questo posto molto rassicurante Ok, mosche ovunque Vediamo se ci vediamo Ci vediamo veramente poco Allora, allora, allora Allora Dobbiamo entrare qua dentro La tua videocamera è fornita di microfono Premi V per sentire attraverso le pareti e localizzare i suoni Ah, pure Aspettate un attimo che se possibile mi accovaccerai volentieri Ok, quindi dall'altra parte di questa porta probabilmente c'è qualcuno Infatti se vedete c'è appunto di qua Percepisci dei suoni Quindi diciamo che io devo passare probabilmente quando Non sentiamo suoni Però Mi sembra vicino Oh Fatemi vedere Puoi nasconderti strisciando sotto i letti E questo sarà altrettanto utile Ok, ok Ecco dove era l'inghippo Usciamo di qua Tieni premuto control Diciamo che non è molto comodo tenere premuto control Se no strisciamo proprio a terra malamente Eh, se spengo non si vede niente Cerchiamo di stare quatti Ok, proviamo a entrare qua dentro E chiudiamo Vediamo quanto Non ci vediamo niente Perfetto Allora, allora, allora Oh madonna santa Vorrei cercare di capire dove dobbiamo andare Qui c'è uno Che Mi sa che come vedete Cammina Sta andando in là Oh madonna santa Per poco Per molto poco Risparmiamo un attimo di batteria Madonna mia Ok Stanno andando in là Siamo Qui una lentezza Ridicola Una lentezza Incredibile Dove è andato Oh madonna No, 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 no No Eh, vabbè Ma con tutte le direzioni in cui poteva andare Eh, vabbè Via Andiamoci Andiamoce ne Allora, ragazzi Io e la furtività Non andiamo molto d'accordo Andare Andare Eh, la madonna Oh no Cosa è successo? Forse era voluto Che cazzo Via Nel dubbio Ce ne andiamo Non credo sia una grande idea Stare qua Non te ne fai andare Sì, no, ho capito Vai Non so se li devo riprendere Non mi possono più vedere Cioè, sono tipo stati accecati malamente Torni un attimo indietro Giusto per esplorare Un attimo la zona Per capire se possiamo raccogliere qualcosa Non per altro Vediamo Ok, non c'è niente da riprendere Ok, quindi Qualche bagliore di non si sa bene quale natura Ci ha accecato tutti i nostri nemici Per cui noi possiamo gironzolare Bellamente Comunque, avevamo trovato questo foglio Che diceva Ti prego di essere forte Per quanto possibile Durante la messa Papa dice sempre Che Dio ci ricorda i nostri peccati In sogno E che dobbiamo conviverci Se vogliamo vivere in pace con Dio Se le visioni si fanno più minacciose E i sogni si presentano Nelle ore di veglia Allora le tribolazioni E le sofferenze sono vicine Ma sappiamo che il paradiso Ci attende dall'altra parte Dio ci ama e non esige mai più Di quanto possiamo offrirgli Tuo per sempre Philip Beh, sì, un testo molto Semplice E... Sì Ok, chiaro E... Ok Devo riprendere qualcosa? Sì Non so bene Di che si tratti Sembrerebbe una chiesa Diciamo che la natura della chiesa Sembra tutto tranne tranquilla Allora Vediamo Riproduci Eh... Sì Diciamo che È una chiesa Di dubbi origini Bello L'effetto del fuoco Comunque Proseguiamo Oh madonna Sta andando tutto troppo liscio Eh, difatti Non possiamo andare di qua Cioè O almeno Dovremmo andare di qua Ma Ah, noi abbiamo una strada stronza Giustamente Avanti Allora Beh, sì Giustamente La statua di una madonna Con gli occhi sanguinanti È... È come per volerti dire Entra Tranquillo Non c'è niente qui dentro Di preoccupante Ah, sì Poi Bellissimo L'effetto della porta Che fa una croce rovesciata Con il pavimento Ma sì Entriamo Noi non abbiamo mica paura Di queste cose Non sono cose Normali L'ordine del giorno Eh, ma Devo per forza Varcare questa porta Posso Prima Esattamente Provare le altre Tipo Oh madonna No, vabbè ragazzi Io ve la riprendo Se ve la volete leggere Già faccio fatica Se poi me la scrivono Con una scrittura così È finita Lascia Ok Sblocca serratura Non so Eh, se devo andare di qua Non lo so minimamente Se devo andare di qua Però magari Prima di varcare La porta principale Vado giù per la strada Più di merda Che posso fare No dai Torniamo un attimo indietro Perché non mi voglio perdere niente Qua mi sembra Che vada per le lunghe Allora 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 Ci abbiamo anche L'altra porta Che questa però È Saldamente Serrata Ah no Ah no Beh Questo è solo Un effetto scenico Cioè Non è neanche Cliccabile Quindi ho preso L'unica strada possibile Senza neanche Saperlo Ma Io vorrei sapere Che questo qua Sei il loro papa Come fai a definire Papa Un obeso ciccione Così Allora Poi più che altro Non è tanto per l'obesità Quanto più per La sua bruttezza Totale No ma stai bene Tranquillo Sì tranquillo Stai bene Tanta gente Che sta bene Sempre La nostra Madonna Bellissima Con gli occhi sanguinanti Chi è? Stiamo calmi Qui ci sono delle chiavi Ehm Scusate ragazzi Ma sto cercando Un attimo Di capire Che cosa sta succedendo Perché stanno Succedendo mille Mila cose Allo stesso tempo E Insomma Sto cercando Di capire Un po' tutto E' incinta Dell'anticristo Il nemico Si c'era Nel suo ventre Cioè No ma Siamo fuori In testa Ma chi è che sta parlando? Ah ma sono sopra Andiamo dentro Sicuramente ci accadrà Qualcosa di molto brutto Allora So che Papa Gnot Ti dà ascolto Quindi Ti chiedo di Riferirgli Una cosa Che spero Non sia grave Come temo Stamani Prima dell'alba Il leader Dei suoi diaconi Val Mi ha fatto Una proposta Molto ambigua E Dal suo atteggiamento Ho intuito Che si trattava Di un'offerta Segreta Di natura Sessuale Poiché conosco Val E la sua reputazione Mi sono spaventata E non ho accettato Il suo invito Val si è rifiutato Di fornire Ulteriori spiegazioni E mi ha detto Che ci sono Luoghi Nei nostri cuori Inaccessibili Anche a Papa Gnot Anche se A essere sinceri Mi sembrava Più interessato Ad altre parti Del mio corpo Ha detto Ho detto a Val Che volevo Pensarci su E gli ho chiesto Di tornare Questa sera In verità Spero che Non possa Inviare Degli uomini Dio buono Si legge niente Di sal Di principi Non si legge niente Ragazzi Se voi leggete Mi fa piacere per voi Comunque Tutto sempre basato Molto sul sesso Su Blasfemie Di ogni tipo E chi più ne ha Più ne metta Allora Vediamo Proviamo a guardare Sì Che questo qua Quello che non Tacevo un secondo Qua c'è uno Sdraiato Dentro una gabbia Io non so Se devo andare Di qua Una pila Giustamente Probabilmente Mi deve arrampicare Da qualche parte Non sto Seriamente Capendo No E dai Giù di qua Non ci devo andare Ah la poverina È anche crepata Allora Qui c'è sempre La signora Devo andare Secondo me Là di dietro In più È capire Come fare Su Non posso saltare Di qua Non posso andare Come Cavolo C'è Rivola Attaccata Al muro Non posso Andarci Sotto Non c'era Niente Inizia a farsi Intricata La situazione Magari Di qua Ma qua Non c'è Niente Ma io ho trovato Una chiave Una chiave Magari per aprire La porta Che era bloccata Magari Sono sicuro Che qua Da qualche parte C'è uno spago Inaguato Di quelli che Sentite che musica Come fa uno A star tranquillo No eh Non è la chiave Non è la chiave Di questa porta Non è la chiave Di questa Giusto Che chiave è Soprattutto Obiettivo Trova lì Se io clicco Su questa chiave Me la fa solo vedere Non ho un altro inventario Giustamente Solo quello Me la fa solo vedere Bene Non posso saltare Da nessuna parte Ah devo strisciare qua sotto Perfetto Eccoci qua Ma vattene Vattene Va Tacci tua E di chi non te lo dice Via Col cavolo Che sto ancora qua Oh Apri la porta Grazie Soprattutto Grazie Per lo spavento Belli questi suoni Ok Siamo arrivati In una cucina O almeno Quella che No Più che una cucina Sembra una sala da pranzo Non che salotto Di una casa Proviamo ad andare su Anche se non vorrei andarci Puoi nasconderti entrando In un armadio Perché mi Perché mi dovrei Nascondere Ok Capiremo il senso Anche qua ragazzi Io ve lo filmo Ma Cioè Se lo volete leggere Io sinceramente Leggermi una cosa Scritta con questa Calligrafia Anche no Bella Per l'amor di dio Ma Preferisco farvi vedere Il titolo Togliatemi le mani di dosso Qua Stanno stuprando Una donna Sicuro Sfondiamo No Anche no E qui Non si capisce bene Cosa è che stiano facendo Ci lasciano Ci lasciano un po' Al mistero Mi sa che questa qua È la mogliettina Oh Maledizione Che le succede? Non so se devo passare Dalla porta No Beh giustamente La strada migliore È sempre la finestra Aia Che cacchierola è successo? Vabbè Si è entrambati male Ok Vorrei capire Adesso Beh posso scendere così No Non stai tanto bene Si io me la darei a gambe Tutta la vita Dai Beh quindi Andiamo Ah siamo a mano per la mano Ma hanno incintato mia moglie E non voglio sapere neanche di che cosa O chi l'abbiano incintata C'è Ok Oh mio dio Oh mio dio I just wanna get out of here I'm pregnant What the fuck is going on? I can't Not now Let's just get away from this place Ok Rift the devil from her belly And crush it beneath your boat Ok Oh my god Stay back We'll be gentle I swear to fucking Christ the first person who touches me Lose their eyes Oh my god No God wants the child God wants the child Help me! Get out of me God wants the house No you No You motherfuckers Get off me No 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 For fuck sake Shit Take her home I'm gonna share my love with the father Motherfucker I No 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 Pine Oh, ma perchè mi hai dovuto tirare il cazzotto alla fine? Oh, d*****! Lynn! Oh, Dio! Ma... Lynn! Oh, sì, non stiamo tanto bene. Jesus! Jesus, Dio! Non mi sono bene, neanche dove cavolo devo andare. C***o erano? Si chiamavano i heretici. Si chiamavano Lynn... Ah, ce la sono portata via. Sì, sono due size... Cristiani e... qualcosa di altro. Ok, quindi ci sono addirittura due fazioni cristiani e qualcos'altro che abbiamo già benissimo intuito che altra fazione possa essere l'altra, dato che c'è un tema satanico abbastanza pesante in questo gioco. Hanno malamente incintato probabilmente Lynn e non si è ben capito cosa abbiano voluto fare con... quello che hanno detto il nostro seme, ma... da che ci ricordiamo con il nostro seme sappiamo benissimo cosa che ci facciamo e non ci abbiamo fatto niente. Puoi nasconderti sott'acqua. Ah, sti cavoli, attenzione. qua la cosa si fa assolutamente complessa perché... dovremmo passare inosservati... Per esbirciare... Ok, non dobbiamo morire soffocati sott'acqua però... Attenzione, ci vedo una mazza... Beh, giustamente la telecamera si sta bagnata... Che cacchio... Ok... Il tipo è lì? Ah, io attiverei intanto il microfono così lo sentiamo. Ci vede una mazza... Eh, giustamente di qua non ci va da nessuna parte. Quindi, gli attenderei un attimo qui. Spegnendo questo e attivando il microfono che è già attivo. Allora, allora... Come vi dicevo, io nelle fasi stealth vado molto molto male. Quindi sicuro verremo sgamati diversi, centinaia di volte. Andrò incontro ad altrettanti... Game over. Però al momento, dai. Questa volta è andata piuttosto bene. Magari qua stiamo un po' più acquattati. Ah beh, bene. Puoi nasconderti strisciando sotto i letti. E questo ce lo dice ogni volta... Che può? Chiudi a chiave. Nel dubbio. Chiudiamo a chiave. Poi tra poco ci salutiamo, ragazzi. Non voglio tirarla troppo per le lunghe. Arriviamo in un qualche punto interessante. E' un titolo che è decisamente infognante. Non so se avete visto che... Mi ci sto decisamente divertendo. Devo cercare di capire... Ok, qua non mi sembra esserci nessuno. Di preoccupate. Oh, cazzo. Ehm... Scuola. Ok. C'è sempre queste allucinazioni, questi, diciamo, incubi che riportano sempre a una scuola. Ah, ok, devo camminare. Ah, ma siamo di nuovo operativi. Scusate, no, che vedendo tutto nero non capivo... Ok, perfetto. Siamo in una scuola. Non è che avevamo avuto un incubo. Siamo in una scuola. E quindi... Devo uscire? Si può? Sì. Eh, certo. Chiaro. Si ricorda di questo? Vediamo allora che cosa si ricorda in una specifica. Non c'è nessuna scuola. È solo... Noi, ma io lo so, lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Sì. Non sta tanto bene, mi sa. Prendi. Prendi che cosa? Questa. Eh sì. Oh, f***a. Sono tornata in la quattro gradi. E qui pensavo che questo non potrebbe essere più vero. Beh, sì. Tornare a scuola, in effetti, non è che sia una gran bella esperienza. Eh, ok. Dunque, dunque, dunque. Bene, se non altro, un'aula di musica di tutto rispetto. Rispetto agli ambientazioni che siamo abituati a vedere per il momento in Outlast. Bene. Statemmo a vedere, eh. Che qua, il caro, nostro personaggio, si cagherà addosso come se non ci fosse un domani. E quello? Eh, devo andare verso di lui, oppure posso darmi la gamba come se proprio fosse l'ultima cosa da fare, la prima cosa da fare al mondo. No, noi siamo temerali, li andiamo contro. Perché non ci... Vai, vai, vieni, vieni. Ma sì, pensavo di spaventarci. Una persona che ci corre incontro. Tutto qua? Ma ovviamente non è finita, ragazzi. Quindi... Date su al volume. Se possibile. Mi giro un attimo indietro per scaramanzia. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Non ci... Non ci ho ancora creduto. Possiamo? Eh, certo. Eh, ok. È bello, sì, perché ci si vede. Mi piacciono questi giochi dove la visibilità è tanta. E dove cacchierola vado? Ragazzi, cioè, obiettivamente... Ah, ecco. Spero che succeda qualcosa di... Inequivocabile. E inevitabile. Ah, si è aperto il cancello da solo. Ah, beh, giusto. Oh, ti svegli finalmente. Eh, che cavolo? Ci hai rotto. Sempre a dormire, a fare stinfo. Mi ma sveglia. Per favore. Oh, metti questi cazzi d'occhiali che poi non ci vedi. Poi vedi che succede che tramvi male. Non ci vedi. C'è un'occhiali che... No, la c'è un'occhiali che... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Non c'è... Ma che faccia se si trovano tu qui. Aggi, Chi è tu? Chi è tu? Ma più che altro noi ci vediamo piuttosto offuscato e andiamo anche piuttosto storti Ah ecco, pian pian ci stiamo riprendendo Oh grazie a Dio Oh grazie a Dio E a Dio che ti ha Va bene ragazzi direi che per questo episodio sia tutto Come detto la trama si sta complicando parecchio Anche perché abbiamo trovato finalmente qualche alleato che tanto male non ci fa In un mondo così complesso E abbiamo scoperto che ci sono addirittura due fazioni I cristiani tra virgolette si fa sempre per dire E quelli diciamo più eretici che hanno sta fissazione con l'antincristo E per incintare le mogli degli altri E niente Nel prossimo episodio parleremo con questo soggettone E cercheremo di capire che cosa possiamo fare insieme al nostro carissimo amico Bene ragazzi un saluto a tutti E ci vediamo nel prossimo episodio Mi raccomando mettete un like, condividete E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale Ciao